Ci sono persone al mondo, poche per fortuna, che credono di poter barattare un'intera via Crucis con una stretta di mano, con una visita ad un museo, che si approfittano delle vostre insicurezze per passare un colpo di spugna su milioni di frasi, su miliardi di parole d'amore. Ma io ora vi spalmo sulle pareti. Questo diceva Paz. Magari non immaginava che quelle pareti potrebbero essere quelle di un teatro che ha il suo nome. In una zona d'Italia dove è complicato aprire un teatro, in realtà non esiste una zona dove sia facile aprire un teatro. Io sono orgoglioso, come se fosse mio, dell'idea di sentire che un teatro può apportare il nome di Paz. Perché Andrea Pazienza era questo. Era arte senza filtri. Perché un artista questo fa, così diceva Paz, prende un sentimento dalla realtà e lo mette su carta, con ogni mezzo di cui dispone. Ma non solo su carta. Può metterlo sul palco, con ogni mezzo di cui dispone. Sul palco di un teatro che ha il nome del più grande disegnatore, vivente, diceva lui. Che questa operazione abbia tutto il sostegno di cui ha bisogno per poi dare la possibilità a tanti che fanno questo mestiere di rendere onore anche solo una volta nella vita all'arte di uno che è stato immenso. e che forse un gesto rivoluzionario come questo l'avrebbe approvato immensamente. Ci avrebbe fatto mille disegni dentro. Chissà che non arrivi qualcuno con un pennarello a cercare di imitare un po' quell'arte lì. Viva Paz, viva il piccolo teatro, Andrea Pazienza.